che ha impostato volta per volta secondo delle indicazioni, ma non è una procedura curativa, non cura assolutamente nulla, è un esame per immagini, che ci permette di vedere delle immagini. Grazie anche ad Assunta, 011 205 4325 per intervenire in diretta 348 80 40 254 per i vostri sms, nordovest.tv, chiocciola nordovest.tv per le vostre email.